Il gruppo CNH Industrial è composto da 12 brand che operano nel settore dei veicoli commerciali, nel settore delle macchine agricole, nel settore dei veicoli movimento terra e sviluppo e progettazione motori. CNH Industrial ha in Italia 13 stabilimenti, tra cui quello di Torino, qui dove siamo oggi, rappresenta sicuramente uno degli stabilimenti più importanti e principali. CNH Industrial è ormai da anni fortemente impegnata nell'attività di spostamento casa-lavoro, lavoro-casa dei propri dipendenti, offrendo delle soluzioni eco-friendly, come si dice per essere moderne, alternative all'utilizzo dell'auto privata. Tutto questo rientra in un piano che viene chiamato piano di mobility. I piani di mobility management vengono sviluppati dal gruppo CNH Industrial, soprattutto qui in Italia, in stretta collaborazione con le autorità locali. Le iniziative di mobility management includono tutta una serie di attività, quelle che noi principalmente utilizziamo, soprattutto sul territorio italiano, sono carpooling, utilizzo di navette che l'azienda mette a disposizione dei dipendenti e l'utilizzo della bicicletta. In CNH Industrial abbiamo incominciato ad interessarsi al carpooling già anni fa, perché il carpooling ha il grande vantaggio di coprire anche aree e orari che con il mezzo pubblico non si riescono a coprire. Inizialmente avevamo installati, montato un sito sulla intranet aziendale dove i dipendenti potevano incrociare il loro posto di lavoro con la sede di casa, con l'indirizzo di casa. Questo non è bastato per motivare i dipendenti, è semplice trovare un collega che possa viaggiare insieme, non è bastato per motivarli a utilizzare il carpooling come spostamento. Dal 2016 abbiamo individuato un'app che i dipendenti scaricano semplicemente e che quindi ha queste possibilità di certificare e noi abbiamo la possibilità di premiare il viaggio. Con questa app abbiamo la possibilità di incentivarli, creiamo quello che il fornitore poi propone, il fornitore Joe Job, propone delle gare, quindi i dipendenti in un certo periodo registrano tutti i loro viaggi e a seconda di quanti viaggi, quanti chilometri hanno fatto ricevono da noi dei premi. In Italia attualmente 750 iscritti, che diciamo è un numero significativo però non grandissimo anche per il numero di dipendenti che abbiamo. Abbiamo visto però in Spagna funziona ancora meglio, funzionerebbe ancora meglio se ci fosse un pacchetto riservato per i dipendenti che vanno in carpooling. Per me è importante poter dire che adesso dall'inizio, da quando abbiamo iniziato a utilizzare questo tool, abbiamo accumulato più di un milione di chilometri in carpooling e questo credo che sia un numero significativo, abbiamo quasi 80 tonnellate di CO2 risparmiate ed è sicuramente tanto. Possiamo concludere dicendo che l'attività di carpooling rappresenta oggi per CNH Industrial uno dei tool fondamentali per l'attività di mobility management. I dipendenti sono sempre più disposti a sperimentarsi in questa attività, a mettersi in gioco e noi assecondiamo ben volentieri questa loro disponibilità per sperimentarci noi stessi.